Oro e bitcoin possono essere considerati investimenti equivalenti? In passato che recentemente ho visto che si confronta l'oro con bitcoin come fossero cose equivalenti. Ma è veramente così? È vero che anch'io nel mio podcast ho utilizzato l'oro per spiegare bitcoin e dare un po' il senso di come funziona. Ci sono effettivamente dei punti in comune in relazione in particolare con lo stock. Sia l'oro che i bitcoin non hanno stock illimitato e non possono essere generati in maniera limitata, ma prima o poi finiranno. Detto ciò però ci sono delle differenze. In primo luogo l'utilizzo, cioè l'oro viene utilizzato sia per motivi industriali che per motivi commerciali. Bitcoin no. Bitcoin dovrebbe essere utilizzata come voluta di scambio ma di fatto non lo è. Già questo dà dei comportamenti diversi da parte della domanda nei confronti di oro e bitcoin. Per il fatto che l'oro venga utilizzato in senso pratico è difficile che il suo valore vada a zero, a differenza di bitcoin che potenzialmente può andare a zero. Questo rende l'oro anche molto più stabile ai bitcoin a livello di mercato. Altre differenze fra oro e bitcoin. L'offerta e il mercato. Un'altra differenza sostanziale che c'è fra oro e bitcoin è data dall'offerta. Sia la produzione di nuovi bitcoin o oro. Mentre l'oro è estratto in varie parti del mondo se ci sono problemi con l'estrazione e la quantità di oro estratta è inferiore e quindi c'è un impatto sui prezzi dell'oro. Per bitcoin questo non sussiste perché a prescindere da quanto la gente fa mining la quantità di bitcoin emessi è costante. Quindi per bitcoin l'offerta rimane invariata e non incide sul prezzo. Un'altra differenza è il dove l'oro e bitcoin vanno a finire una volta prodotti. Quindi se vogliamo come è composto il mercato. Mentre l'oro viene distribuito in vari modi parte dell'oro è nelle selva degli stati un'altra parte è utilizzata in industria o nei gioielli e una parte di tutto l'oro è scambiata nei mercati. Per i bitcoin invece tutti i bitcoin vengono continuamente sempre scambiati nei mercati a parte una piccolissima parte. E se vogliamo l'offerta di bitcoin non è chi produce ma chi li scambi. Altre differenze fra bitcoin e l'oro. L'andamento sui mercati. Nei articoli soprattutto di inizio 2021 si parlava di bitcoin come bene rifugio alternativa all'oro. Andiamo a vederci effettivamente come si comportano queste due cose nei mercati. Uno studio del 2018 fa vedere l'andamento di oro e bitcoin dal 2012 al 2018. E come potete vedere gli andamenti sono diametralmente opposti. Io da 2012 e 2018 bitcoin e oro avevano una correlazione negativa. Cioè quando uno saliva l'altro scendeva e viceversa. E se osserviamo anche le variazioni di prezzo sempre in questo periodo vediamo che sono molto molto diverse. Per non parlare della distribuzione delle variazioni. Questo però è come si è comportato fino al 2018. E ora cosa succede? Osservando un grafico del 2020 e 2021 vediamo che la situazione non è poi così cambiata. Per vedere il comportamento del mercato oro e criptovalute si comportano in maniera molto diversa e non simile. Secondo Bloomberg in periodi di avversione al rischio le criptovalute si comportano molto di più come le azioni. Voi cosa ne pensate?